Ciao e benvenuto sul mio canale, io sono Michael e su questo canale condivido le mie esperienze zaino in spalla. Oggi vi faccio un video diverso, oggi voglio parlarti di quell'accessorio grazie al quale ho capito di poter realmente viaggiare sempre e solo con uno zaino. E sto parlando dei cubi organizzatori, ma perché ti consiglio di acquistare i cubi organizzatori? In realtà prima di acquistarli neanche io ero convinto che potessero realmente essermi utili, però una volta che inizi ad utilizzarli ti rendi realmente conto di quante cose in più riesci a mettere all'interno dello zaino. Ed inoltre il bagaglio risulterà molto più organizzato e facile da svuotare, da riempire ad esempio durante i controlli in aeroporto. In commercio ce ne sono di varie tipologie, come quelli con la doppia zip, che permettono di comprimere ulteriormente i vestiti all'interno. Questi sono quelli che utilizzo io, sono dei cubi organizzatori a marchio Amazon e sono, credo, tra i migliori qualità prezzo. Io utilizzo prevalentemente quello grande, quelli più piccoli ancora non li ho mai utilizzati, però potresti ad esempio utilizzarli all'interno del tuo trolley, renderlo più organizzato e sistemato. Se acquisterai questi qui, ti arriveranno a casa 4 cubi organizzatori di dimensioni differenti. Ti lascio il link in descrizione di questi cubi. E tu cosa ne pensi dei cubi organizzatori? Se non li hai ancora acquistati e non li hai mai provati, ti consiglio assolutamente di farci un pensierino e dopo mi ringrazierai. Io ti ringrazio per aver visto questo breve video ed essere arrivato fin qui. Ti invito a lasciare un like, ad iscriverti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!